La cosa che le è piaciuta di più in questo 2013 è la sua squadra e quella che invece vuole migliorare nel 2014? Innanzitutto la disponibilità dei ragazzi a poter mettersi sotto riconoscendo un campionato difficile come quello di Serie B dove le difficoltà sono di settimana in settimana, le troviamo sempre in virtù dell'atteggiamento delle squadre molto compatto, chiuso, aggressivo, spezzettare il gioco e quindi è chiaro che in questo senso dobbiamo essere bravissimi a dover essere più veloci con la palla e senza palla e nello stesso tempo anche a dover, la cosa positiva, a dover recuperare da una posizione di partenza difficile e che solo in tre mesi di lavoro abbiamo recuperato una posizione importante di classifica. C'è un giocatore da cui si aspetta di più e uno che invece l'ha sorpresa e che è andato oltre le aspettative? No, non c'è un giocatore in particolare perché tutti nelle difficoltà anche che si possono incontrare vedi infortuni, problematiche, magari qualche ragazzo ha avuto qualche problematico fisico in questo senso quindi hanno dato tutti grande disponibilità nello stesso tempo. Penso che un po' le risposte sono arrivate da tutti magari Belotti che forse era un giocatore che conoscevano in pochi come giovane ha lasciato una buona impressione questo fa ben sperare per il futuro. Tutti i suoi giocatori hanno sottolineato che lei è stato in grado di dare grande esperienza al gruppo e grande attenzione in fase difensiva. Quanto la inorgogliscono queste parole? Io ho cercato di portare un po' quelle che possono essere le mie esperienze se andiamo a guardare tutte le prime squadre che sono in vetta alla classifica tutte hanno avuto modo di lavorare dal ritiro estivo, hanno costruito la squadra alcune, diverse di queste, lavorano insieme da più anni quindi c'è conoscenza migliore e maggiore. È chiaro che io dal mio arrivo fin dai primi giorni ho dovuto cercare di andare a creare un'organizzazione tale che permettesse di avere un equilibrio giusto nelle due fasi, nella fase di possesso e di non possesso tale da non dover prendere tanti gol e nello stesso tempo di andare a essere prolifici e andarli a fare e in maniera veloce cercare di coniugarci i risultati e risalire la classifica visto che eravamo magari attardati al dodicesimo posto, insomma quindi dovevamo risalire in fretta. Come ha ritrovato l'ambiente rosa-nero dopo qualche anno di assenza da Palermo? No, sicuramente sempre caldo, sempre affettuoso da parte mia se sono tornato e sceso in Serie B è perché conoscevo questa piazza, questa tifoseria, questo ambiente, questo pubblico, l'affetto che mi porta nei confronti di questa gente, di questa anche società se vogliamo, in virtù della conoscenza anche con il Presidente Zamparini ha fatto sì che io potessi tornare qui per cercare di portare il mio contributo affinché la squadra potesse risalire in situazioni di classifica più consone. Qual è il suo auspicio per l'anno che sta iniziando e cosa vuole dire ai tifosi rosa-nero? L'auspicio è quello di continuare a crescere, di continuare a lavorare e più staremo insieme più ci conosceremo e più potremo far sì che la squadra diventi figlia del proprio allenatore ma questo è normale che possa essere così perché in soli pochi mesi non si costruisce niente nessuno ha la bacchetta magica e quindi mi aspetto una crescita costante da parte di tutto il gruppo sicuramente nello stesso tempo dai tifosi non posso chiedere niente se non quello di fare quello che sempre sappiamo che hanno fatto essere attaccati alla squadra, sostenerci sempre perché la squadra ha bisogno di loro del suo pubblico, dei suoi tifosi per poter tornare in Serie A.